Contestiamo qualsiasi decisione frutto di iniziative dell'amministratore revocato di Teatreservizi. Si sintetizza così la posizione del sindaco Diego Ferrara in merito alla vicenda di Teatreservizi dopo lo scontro che si è consumato ieri durante l'assemblea dei soci convocata dall'ex amministratore unico Massimo Marchetti il giorno prima della fine del suo mandato dopo essere stato revocato dall'amministrazione Ferrara per giusta causa. L'obiettivo è quello di nominare il nuovo amministratore unico che abbia la possibilità ma soprattutto le capacità di fare un nuovo piano industriale che porti questa società ad avere delle positività gestionali ed economiche quindi un altro fattore è quello della stabilizzazione del personale attualmente impiegato da Teatreservizi. Tenga conto che questo obiettivo, questo totem che ci siamo prefissi, questo obiettivo è stato scritto nero su bianco sul DUP del mese di ottobre del 2021 e quindi io non derogherò per seguire questo obiettivo. Lei ha definito strana la decisione dell'amministratore della società di assumere iniziative unilaterali. Cosa dovrei dire se a questa assemblea in pratica sembrava essere già deciso che la società dovesse essere messa in liquidazione? Certamente io prendo atto di quello che è stato detto dall'amministratore unico ma anche dal Collegio Revisore dei Conti perché siamo perfettamente consapevoli del vulnus che questa società ha avuto negli anni e ripeto negli anni, quindi non nell'anno e mezzo da quando sono stato eletto sindaco, ma ho la ferma volontà di mantenerlo in funzione.